Sono le 10.40 minuti e 30 secondi, bentornati ad almeno due pagine al giorno e come anticipato in sommario in apertura è tempo di interviste insomma ad almeno due pagine al giorno e allora io sono davvero molto contento di poter dare il benvenuto su RBA a Max Collini in collegamento con noi. Ciao Max, buongiorno. Buongiorno a tutti. Intanto grazie Max per aver accettato il nostro invito a parlare di un libro che insomma ci appassiona particolarmente perché all'interno del racconto quotidiano che facciamo anche ad almeno due pagine al giorno ma all'interno diciamo anche di buona parte delle nostre delle nostre trasmissioni come dire i ragionamenti intorno all'antifascismo sono sempre molto molto presenti perché insomma nell'ultimo periodo anche soltanto a questi microfoni si sono avvicendati storici ma anche scrittori che hanno raccontato la storia appassionale della guerra partigiana per esempio Chiara Colombini o la resistenza delle donne Benedetta Tobagi, Silvia Barlestra, la Sibilla o ancora Carlo Greppi con i pirati delle montagne, Daniele Aristarco con una bella resistenza, una storia, un racconto di memoria, Francesco Filippi che tra l'altro è autore della prefazione di questo meraviglioso Storie di antifascismo senza retorica pubblicato da People il 15 febbraio per chi ci guarda anche sul digitale terrestre ed in streaming questa è la copertina. Intanto Max qui parliamo invece di storie assolutamente se vogliamo ordinarie, semplici, quotidiane ma intanto te l'avranno chiesto già in tanti ho visto anche diverse interviste, ma perché sono storie di antifascismo senza retorica? Partiamo da un antefatto, a parte che l'elenco degli autori che avete citato, che hai citato mi hanno un po' fatto tremare le vene, forse io gioco un campionato inferiore rispetto ai nomi che hai citato, tuttavia partiamo da due antefatti. Il primo antefatto è il fatto che questo libro nasce da uno spettacolo, nel senso che io sono in giro da un anno circa con uno spettacolo omonimo, con lo stesso titolo, ma mi sono reso conto alla fine degli spettacoli che il pubblico che si medesimava forse tantissimo, comunque era molto interessato alle storie che raccontavo, mi chiedeva dove poterle trovare, ma io non avevo predisposto un contenitore di tutte le storie che raccontavo e quindi c'era una domanda. Il secondo antefatto è che io sono vent'anni che mi sento chiedere ovunque vado, con i miei spettacoli, i miei concerti, le cose che faccio dagli off-laga di Scopax in poi, purtroppo il mio gruppo originario non esiste più per varie vicissitudini tragiche, e quindi il risultato finale è che sono vent'anni che mi dicono quando è che scrivi un libro. Allora mettiamo insieme queste due cose, mettiamo insieme il fatto che su questi argomenti una delle accuse che viene fatta da almeno 30 anni a chi si occupa di antifascismo, da chi parla di queste cose, è che esiste questa retorica antifascista, che è una espressione che, la retorica antifascista è un'espressione che odio con tutto me stesso, anche se odiare è una cosa faticosa e magari non bellissima di cui vantarsi, comunque odio quell'espressione. Ho messo insieme almeno 30 queste cose, è nato questo libro, assieme ad Arturo Bertoldi, che qualcuno di voi potrebbe conoscere se conosce la storia degli Oflagadiscopax perché è l'autore dell'unico testo degli Oflagadiscopax che non ho scritto io e che è Cinnamon, tutti gli altri ho scritto io, ve lo giuro, tranne Cinnamon, e quindi ho iniziato a lavorare a questo progetto in cui ho coinvolto Arturo che era già l'autore di alcune delle storie e dello spettacolo, ci abbiamo lavorato parecchio tempo e questo è il risultato, ma la cosa che mi premeva nello spettacolo e poi nel libro è appunto di smontare la retorica della retorica antifascista, mettiamola così. È stato un lavoro diciamo complicato perché insomma in questo paese poi insomma sulla retorica si costruiscono anche come dire in maniera molto forte campagne elettorali, politiche governative e via dicendo, ma come dice il nostro amato Francesco Filippi è uno spettacolo l'antifascismo, un enorme movimento di popolo, di quelli che segnano la storia, anzi che la storia la fanno, che se lo merita uno spettacolo, uno spettacolo che sta se non sbaglio Max girando ancora già da diverso tempo, anche se vedo che c'è anche una lunga lista anche di date, di presentazione diciamo del libro, dentro insomma questo racconto senza retorica, senza eroi scrivi con Bertoldi, senza ufficialità, senza bandiere, proprio per questo nostre nel profondo, là dove si fanno i conti con chi siamo, che cosa vogliamo, quanto ci resta ancora da dire? Perché, ovviamente questa è una domanda banalissima, ma da dire ce n'è ancora tantissimo rispetto, come dire, non soltanto alle storie, ai contenuti, ma anche diciamo alla nostra quotidianità in questo disastroso e amatissimo al tempo stesso paese, no? A proposito di retorica diciamo. Allora la faccenda è che quando abbiamo pensato al libro, io e Arturo, non potevamo immaginare che nel tempo in cui sarebbe uscito, noi ci abbiamo lavorato sostanzialmente nella seconda metà dell'anno scorso, nei primi giorni dell'anno nuovo, non avremmo mai immaginato che nel momento in cui sarebbe uscito questo libro, qualche settimana fa, sarebbe quasi, sarebbe potuto sembrare un instant book, nel senso che poi il tema è deflagrato, anche aiutato purtroppo da questo tipo di politiche governative, da, come dire, questa sensazione in cui il manganello, come dire, vibra nelle corde di molti degli esponenti o dei sostenitori di questo governo e quindi ci siamo trovati in mano anche un elemento inaspettato, purtroppo, questo lo dico purtroppo, mi dispiace, in cui in qualche modo il libro esce in un momento molto particolare della storia di questo paese, c'è il primo governo di destra, 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 e quindi, insomma, ci siamo trovati a, come dire, ad uscire in questo clima. Le presentazioni saranno tantissime, abbiamo tantissime richieste, poi magari ve ne dico qualcuna nei prossimi giorni, che ci saranno nei prossimi giorni, ma continuo anche il tour e andiamo verso un periodo, presto sarà il 25 aprile, in cui farò praticamente quasi uno spettacolo al giorno per tutto il mese d'aprile, quindi diciamo che mi tengo impegnato e vista l'età sarà bene anche che mi rimetta un po' in forma dal punto di vista fisico. Ci sarà anche tanto da galoppare perché, insomma, poi ovviamente stanno per partire di nuovo le trombe sul 25 aprile, sulla riconciliazione, sulla pacificazione, insomma, per cui immagino che ne avrete di lavoro da fare anche, quindi, insomma, dal mio punto di vista, insomma, e ben vengano, diciamo, le tue, anche se sarà una faticace, insomma, i tuoi spettacoli quotidiani, perché, come scrivete anche nel vostro libro, nessuna conquista democratica è per sempre, quindi dare per scontato, come dire, che questo è un paese a, come dire, a vocazione antifascista, non è assolutamente, come dire, un dato che possiamo dare per scontato, per cui c'è tantissimo lavoro da fare, come scrive ancora Filippi, sono queste parole semplici, forti, gesti concreti di solidarietà contro la barbarie, ed è questo il senso vero dell'antifascismo, perché tu da qualche parte, anche verso la fine del libro, dici che preferisci raccontare più che urlare, come dire, queste storie e questi racconti, no, Max? Io e il mio coautore, Arturo Bertolli, abbiamo sempre detto che secondo noi basta, basta, no? le storie delle persone, quindi non delle istituzioni, non dei partiti, non dei militanti, non dei capi partigiani, bastano le storie delle persone per convincere che quella roba lì sta bene nella storia, perché il problema qual è? Che in Italia non c'è più stato un regime dopo il 1945, per fortuna nostra, e speriamo che non ci sia anche in futuro, né io penso che la democrazia sia veramente a rischio, diciamo che ci vorrebbero più anticorpi, ovviamente in un momento come questo, il fascismo non c'è più stato dal 1945 oggi, ma vi giuro, ma penso che lo sappiate anche voi, che di fascisti invece ne abbiamo avuti tantissimi, e i fascisti hanno condizionato la storia di questo paese in modo, alle volte, nascondendosi, e oggi condizionano la storia di questo paese non nascondendosi, in un'altra forma, più soft forse, ma che, come dire, i cui valori, come dire, sonnecchiavano da parecchio tempo in persone che prima preferivano starsene tranquille sul divano di casa, non davano neanche a votare, che in questo momento, come dire, viene sdoganata della roba non sdoganabile, secondo me, in termini di valori, in termini di linguaggio, per cui io e il mio coautore, Arturo, abbiamo scelto invece un linguaggio tutto diverso, ed è un linguaggio che riguarda la narrazione, questo libro contiene 23 storie, sono storie vere, scritte da me e da Arturo, ma che testimoniano poi storie di altre persone, e ci sono anche dei contributi esterni, è un'antologia di racconti, in cui si dovrebbero trarre delle conclusioni che lasciamo al lettore, l'idea mia principale è di cambiare il linguaggio con cui si pongono certi argomenti, perché io penso a un ragazzo di vent'anni che oggi a scuola si ha la fortuna di fare un liceo in cui gli insegnanti di storia arriva fino alla seconda guerra mondiale, arriva alla contemporaneità, senta parlare di cose come il fascismo, come io mi appassionavo pochissimo sinceramente alla storia del risorgimento, cioè una cosa talmente lontana nel tempo da non poterlo coinvolgere, perché probabilmente per le nuove generazioni non c'è neanche il racconto dei nonni e dei genitori su certe cose, se non per tradizione familiare, non tutti possono avere quella tradizione familiare, il risultato finale è che quando uno che non è mai sentito parlare di queste cose, se le trova a scuola e se le sente raccontare in quel modo, probabilmente si appassiona, ripeto, come io mi appassionavo alla storia del risorgimento. Forse in un altro modo, con altri esempi, con cose raccontate in modo diverso, anche l'approccio di una nuova generazione a questi argomenti possa essere, come dire, più umano. Io credo che alla fine il fascismo e in generale le dittature sono robe disumane, non sono robe umane, non hanno niente a che fare con l'empatia umana. Per quanto i film odierni sul nazismo ci raccontino di un'acquiescenza, di un'adesione abbastanza, come dire, pacifica a degli sconci pazzeschi, pensiamo al film appena uscito sulla famiglia che viveva di fianco a Lager e la sua vita normalissima, non mi ricordo il titolo, aiutami. La zona di interesse, certo, la zona di interesse di Jonathan Glaser, certo. E però ci sono delle cose che vanno oltre gli aspetti delle dittature, eccetera. Il mio tentativo, il nostro tentativo, nel suo piccolissimo, è quello appunto di cambiare un linguaggio nel raccontare queste cose. Io credo che ci sono alcuni racconti del libro che anche Netanyahu potrebbe, come dire, entrare in empatia con quei racconti. Ho parlato un po' grosso, ma ci siamo capiti. Ci siamo capiti, assolutamente, ma anche perché viene fuori in diversi racconti che la guerra non si vince solo con le armi, che non siamo bestie. Però mi consenti, come dire, anche un accostamento. Tu direi, insomma, i nomi che hai fatto all'inizio. Però, insomma, chi ti parla ha letto con attenzione anche queste storie e mi permetto di fare un altro paragone molto alto. Perché, per esempio, la storia di Igor Simutenkov, del calciatore Igor Simutenkov. L'ho scritta io, è colpa mia. Sì, sì, è colpa tua, ma è una bellissima colpa perché mi è sembrato di leggere tra le righe, diciamo, ho letto da poco, ho recuperato gli scritti di Edoardo Galeano, per esempio, no? Sui racconti sul calcio. Lo so che fai gli occhi larghi, ma io ho recuperato alcune tracce, diciamo così, o addirittura un bellissimo romanzo, anche minimo, se vogliamo, di Remo Rapino, uscito per Minimum Fax, che si intitola Fubal, che racconta storie di calcio, diciamo, degli anni 60, degli anni 50, delle storie meravigliose. Io, insomma, ho ritrovato anche, come dire, quel gusto anche del racconto, dentro, anche soltanto dentro la storia di Simutenkov. Adesso ti lascio la parola perché vedo che continua a sgranare gli occhi, ma, insomma, mi permetto, come dire, questo audace, diciamo, accostamento. Audacissimo, se voglio, mi sembra di capire. Io sono un emiliano di Reggio Emilia e qua si dice vola basso, volare basso. Io volerei un po' più basso, sinceramente, e questi accostamenti mi mettono anche una certa, come dire, ansia da prestazione. No, ma non volevo assolutamente metterti a disagio, insomma. No, no, per carità, insomma, lo dico anche spiritosamente, naturalmente il mio ego si sta contorcendo in ola di gioia, diciamo, in ola di gioia. Però la storia di Simutenkov è una storia che, nel libro stesso, Simutenkov, lo specifico per chi non è un esperto di calcio, ma dubito che anche chi è esperto di calcio, si ricordi, che possa essere Simutenkov, è stato il primo giocatore post-sovietico a giocare nella Reggiana, in Serie A, nel 94. Era il capocarniere del campionato russo e venne acquistato da Franco Dalcin, che poi ebbe varie vicissitudini molto complicate, insomma. È stato squalificato per molti anni perché venne trovato, se ricordo bene, occhio alle querele, ma venne trovato con una valigia piena di soldi per comprare una partita, insomma, non proprio. Invece un europeo molto importante negli anni 90. E però la storia è un po' paradigmatica, perché lui da primo sovietico, fu il primo sovietico a giocare poi nella Major League americana, è una biografia, secondo me, bella, forse non centratissima rispetto al resto delle storie del libro, ma alla fine è una storia molto reggiana, e quindi è per questo che l'ho voluta raccontare a Reggio Emilia, nel bene e nel male non ci siamo mai fatti mancare niente. Ancora ricordiamo volentieri un reggiano a Milan di Coppa Italia, in cui il ragazzo venuto dagli Urali fece un tunnel a Franco Baresi, sì signore, e poi andò in gol sotto al suo naso. Una cosa che in provincia non si è vista quasi mai. E allora, intanto, siamo quasi in coda a questa chiacchierata, insomma, vado un attimo sul calendario delle date, perché si diceva, le date di presentazione sono tantissime. Domani, per esempio, a Prato, poi ancora Ponti a Egola il 17 marzo, poi ancora Livorno, Milano, Filine Valdarno, Fano, Vicenza, Martignacco, Correggio, Cavriago, Mogliano Veneto, Castellazzo, Borme. Tornate a Cavriago dove, insomma, il PC prendeva il 74%, no? Siamo calmi, siamo calmi. Io non sono di Cavriago, io non ero di Cavriago, io sono di Reggio Emilia, e il seggio dove è preso il 74% del mio quartiere a Reggio Emilia vi accompagnò ogni un quartiere di Casa Popolare negli anni Ottanta. Ti chiedo scusa per la confusione. Prego, prego, ma correggo io. Troppo amore, diciamo. Perché si è tra più esperto di lei, ovviamente. Però la faccenda che ho scoperto nel tempo, sono un po' appassionato di numeri, pure troppo, e di statistiche, è che in realtà il territorio italiano dove il Partito Comunista Italiano prendeva più voti negli anni Settanta e negli anni Settanta, non era il Reggiano o il Modenese, ma era la Val di Chiano. Per cui era una roba toscana dove in cerca della zona della provincia di Siena il PC prendeva oltre l'80%, ma il mio seggio comunque si difendeva bene. Nel mio seggio il PC prendeva il 74%, l'ADC il 9% e il Movimento Sociale il 6%, ma, scusate, il 4% circa, e però sapevamo, cioè quello della sezione del mio quartiere, sapevo esattamente chi è che votava il Movimento Sociale Italiano, nome e cognome, e i voti erano sempre quelli, era una sola famiglia di reduci da robe coloniali, e quindi sapevamo esattamente qual era la famiglia che avrebbe votato in massa il Movimento Sociale, ma erano veramente quattro gatti, è un po' cambiata la faccenda. E allora, intanto, si diceva di questo tour che ti terà impegnato davvero tanto, almeno, insomma, fino a maggio, ma c'è un'alternanza tra presentazione del libro e spettacoli, o in alcuni casi, come dire, succedono anche entrambe nello stesso posto? Come funziona, insomma? No, allora, è un po' complicato, nel senso che io sono in tour con uno spettacolo, le date che hai citato sono dati di presentazione del libro, quindi presentazione del libro è una classica situazione in cui io, Arturo, o se Arturo non ce la fa Arturo Bertoldi, ci sarò io da solo con un presentatore, un moderatore, ed è una classica presentazione del libro, in cui magari faccio due o tre letture tratte dal libro stesso, però è una discussione, è un dibattito sui contenuti del libro. Mentre gli spettacoli sono una roba più teatrale, in cui io invece recito, nei miei poveri mezzi, i contenuti, una parte dei contenuti del libro, il libro in realtà contiene molti più contenuti di quelli che ci sono nello spettacolo, perché se io recitassi tutti i testi del libro, lo spettacolo dovrebbe tre ore, e il pubblico, come dire, potrebbe annoiarsi, credo. Per cui in realtà io e Arturo, per raggiungere una durata sufficiente affinché People, l'editore del libro è Tipo Civati, sostanzialmente, che è il direttore editoriale di People, assieme a Stefano Catone, quindi perché People pubblicasse il libro, ci hanno detto, scusate ragazzi, ma ragazzi è una parola grossa, scusate, ma non sono sufficienti i 60 pagine per fare un libro, quindi ce ne vedete delle altre, e quindi Arturo abbiamo lavorato su altri materiali, alcuni dei quali mi sembrano meglio di quelli dello spettacolo, e quindi sto, come dire, aggiornando i contenuti dello spettacolo stesso. Però sono due mondi diversi, le presentazioni e gli spettacoli, posso dire qualche data, assolutamente sì. Il primo a breve è venerdì 22 marzo a Cagliari, in un posto bellissimo che si chiama Su Circulo, spero di averlo pronunciato adeguatamente, è un circolo culturale molto bello di Cagliari città, e poi dopo il 10 di aprile, io sarò accompagnato nello spettacolo da Juker Verbe di Gianni Mirò, che lo musicherà, quindi c'è anche una versione a concerto, a Cotignora, al Teatro Binario. Il 13 aprile torno in solitaria, quindi la versione teatrale, a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, al circolo, alla Casa della Cultura Italo Calvino. E poi dopo, devo andare a memoria ragazzi, 19 di aprile, venerdì, Firenze al Glu, sempre in solitaria. Il 25 aprile sarò a Montesole, una cosa bellissima, con Juker Verbe, quindi farò il concerto a Montesole, Marzabotto, nelle celebrazioni del 25 aprile a Montesole, che è una delle cose più belle che si fanno per il 25 aprile in Italia. Il 24 aprile, il giorno prima, sarò a Piacenza, alla Cooperativa Sociale Infrangibile, adoro questo nome. Il 28 aprile sarò a Verona, insomma, in aprile veramente mi troverete ovunque. E allora, seguiamo Max Collini anche sui suoi canali, perché insomma ci sono tanti appuntamenti, davvero anche intorno a noi. Quindi, insomma, intanto, Max, grazie davvero per essere stato qui con noi a raccontarci storie di antifascismo senza retorica, scritto con Arturo Bertoldi, pubblicato da People. Questa ancora, la bellissima e folgorante copertina del libro con le illustrazioni di Fortunato Disco, voglio aggiungere anche questo.